Ciao amici di Italia Top Games, giovedì vediamo tutte le novità di MyClub Allora, intanto ci prendiamo subito queste monete MyClub che sono legate ad alcuni cambiamenti nel design di MyClub Ci sono stati dei inconvenienti per quanto riguarda i rinnovi degli allenatori E poi continua questa campagna in cui tutti i giorni vengono regalati EGP, oggi altri 5.000 E non ci dispiacciono affatto Andiamo poi a vedere le novità sostanziali e sostanziose per tutti Cominciamo dal nuovo agente speciale Il nuovo agente speciale è l'agente dei quarti di finale di Champions Abbiamo un agente che potrà essere usato tutte le volte che vorremo E ha 139 giocatori e sono tutti i giocatori delle 8 nazionali che si sono qualificati per i quarti di finale degli europei Ecco allora quindi Ronaldo, Neuer, Bale, Hazard, Lewandowski, Boateng, Müller, Buffon Il migliore dei nostri Si scende, si scende, si scende fino ai giocatori dal valore di 75 Chissà se c'è qualche islandese che almeno a 75 arriva E qui abbiamo un giocatore belga Olkowski, Chester del Galles Boris Juk della Polonia Eccolo un giocatore islandese Finn Bogason Speriamo di averlo letto bene André del Portogallo Davis del Galles Gudmundson Un altro islandese Gillet, ex portiere del Bari Nel Belgio Lidley del Galles Questo giocatore ce l'ho e non è affatto male Ve lo consiglio Collins del Galles Anche lui ho Tedesco Il belga Origi Zienliski Boruk della Polonia E poi si sale, si sale, si sale Ovviamente purtroppo Konami non ha aggiornato le rose per gli europei Cosa secondo noi scandalosa Lo diciamo in maniera chiara E infatti troviamo anche Gabbiadini Che assolutamente non è stato convocato per gli europei Ad esempio O anche Padelli Il portiere del Torino Che ugualmente non è stato convocato Bertolacci, Ranocchia Vabbè, lasciamo perdere Meglio Però saliamo, saliamo, saliamo E come potete vedere Andiamo appunto fino a Ronaldo C'è Pogba 88 E tutti gli altri 139 giocatori Né tantissimi Né pochissimi Ovviamente Una volta potrete fare un giro di ruota Con un agente che vi da solo giocatori sopra l'80 Quindi solo palle nere 103 giocatori Le cose cambiano ma fino a un certo punto Vediamo qui chi sono i più scarsi A 80 Scendiamo, scendiamo, scendiamo Ecco qui Krause Zazza Kramer Vierigna Florenzi Allen Sigurdsson Un islandese a 80 Niente male Bertolacci Chadli Sigtorsson Altro islandese Cedric Ranocchia Ecco appunto Eliseo Fellainida Armian Fonte Tutti a 80 Eder Gudjonsen Altro islandese Bellarabi Tedesco E poi si sale Si sale 81 Eccetera Eccetera E questo è quanto per gli agenti speciali Questa settimana Le partite che farete nelle divisioni Non sim Saranno ricompensate con il 50% in più Di DGP E poi Konami ha promesso anche di far trovare 8 allenatori di nazionali Che si sono qualificati appunto ai quarti Qui vediamo Ufficiali Con tanto di foto e di nomi veri Lou e Deschamps Gli altri Mi sembra proprio che siano fake Fra virgolette Cioè hanno nomi falsi E non hanno la foto Forse mi sbaglio Non conosco tutti gli allenatori Delle nazionali Che si sono qualificati per i quarti Però più o meno A occhi e croce Mi sembra che ci siano solo questi due Poi Andiamo a vedere Le challenge Vediamo se come al solito Konami Non segnala la challenge online Mi sa proprio di sì Allora Questa settimana Abbiamo Vincitore Suprema Dal 30 giugno Al 7 luglio Vediamo come funziona Bisogna vincere Tutte e tre Le partite Al solito Un torneo molto difficile da vincere Almeno per me Giocatore normale Non per i super campioni Però se vincete Tutte e tre le partite Avrete ben tre giri di ruota Per la gente Dei quarti di finali Degli europei Niente male Vero? Ecco Buona fortuna Fateci sapere Lasciateci un commento Chi di voi Riuscirà a vincere Tre partite consecutive Online E poi abbiamo Il più facile Ma anche meno Remunerativo Challenge online Challenge versus com Molto più semplice Lì Quello lo riesco a vincere Anch'io Questo lo può Mi posso fregiare Di vincere Le challenge contro il com Andiamo a vedere Eccolo qui Wave euro 2016 Praticamente Dovremmo vincere Tre o quattro partite Andiamo a vedere Quante sono E così abbiamo fatto Tutte e quattro le partite E' un po' lunghetto Come challenge Contro gomma Ma via Si può fare Ecco qui Riceveremo Un giro di agente Dei quarti finali Dopo la nostra prima vittoria Saremo ricompensati Con 1000 GP Dalla seconda vittoria In poi Bene amici di Italia Talk Games Questo è tutto Vi ringraziamo nell'attenzione Siamo qui ancora a parlare Di PES 2016 A fine giugno Anche se ogni tanto Intervalliamo Con le novità Di PES 2017 Siamo certi Che come finiranno Gli europei Inizieranno a arrivare Molte novità in più Noi vi ringraziamo Per l'attenzione Vi aspettiamo Sul canale youtube Di Italia Talk Games E sul nostro sito Ovviamente Italia Talk Games .it Non vi dimenticate Neppure che c'è un forum PES Italia .it Per parlare di PES E di tutto quello Che volete voi Ciao E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti